Mandi ragazzi bentornati o benvenuti dal vostro Ava come l'Ava Allora vi volevo dire che facciamo questa missione Vedete quella casa laggiù? Bene quella lì c'è una missione quindi andiamo subito a farla No come si permettono? C'è un cane in gabbia Libera Vai corri Vola Vola amico mio Vola Tu merito in questa fine No scherzo dobbiamo accettare la missione per le primo gem Ciao fratello Yo bro Cerca i cacciatori di tesori e il giovane dei capelli rossi E ce lo dice sulla mappa quindi andiamo Aiuta il giovane dei capelli rossi E' partita una rissa Attendiamo la sera successiva Vai all'accampamento dei cacciatori di tesori Dov'è? Oh Ah è qua Missione semplicissima ragazzi Bisogna far fuori dei nemici niente di che Vabbè questa è una mini missione Bene grazie mille ragazzi Ci vediamo con il prossimo video Ciao 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 Ciao